Anche quest'anno salta il tredicino ad Arona. La tradizionale festa di marzo, che accanto alle celebrazioni religiose per i santi patroni vedeva l'arrivo del Luna Park, non si svolgerà per il secondo anno consecutivo. La delusione serpeggia tra aronesi e non, che già pregustavano un accenno di libertà a marzo. I giostrai non ci stanno, ma il sindaco Federico Monti replica e spiega le motivazioni dell'annullamento della manifestazione. La decisione, si legge nel comunicato stampa ufficiale, non è stata presa a cuor leggero, ma dopo svariati incontri con forze dell'ordine, sindaci, operatori sanitari e scolastici. Si è deciso così a causa del perdurare dello stato pandemico e dal fatto che il Piemonte sia in zona arancione. In realtà il Piemonte da lunedì 21 febbraio è di nuovo in zona gialla e dunque la curva dei contagi sta decrescendo rapidamente. E quindi non si spiega il no secco al Luna Park, quando in molte altre zone d'Italia si svolgono regolarmente. In ogni caso il sindaco Federico Monti è pronto a consentire lo svolgimento del Luna Park in altre date a venire, compatibilmente con gli eventi già in programma e la disponibilità degli operatori del Luna Park stesso. E per dare un contentino alle molte famiglie che con il Luna Park ci campano, nel 2023 la manifestazione durerà una settimana di più. Il problema ora è arrivarci al 2023. Tra promesse e restrizioni altalenanti le persone hanno iniziato a spazientirsi. Noi ci ricorderemo di quanto scritto nero su bianco dal primo cittadino di Arona. Ogni promessa è debito. Sniper Web TV seguirà gli sviluppi della vicenda.